I bambini del quartiere Paolo VI, protagonisti di un'iniziativa pubblica per il sociale. Musica, colori e pennelli in via Bocarelli, un evento organizzato dall'associazione Ray Take e il supporto degli artisti tarantini Fido Guido e Zacalicius. Famiglia in azione per accendere i riflettori sulle problematiche che affliggono il quartiere. L'obiettivo è alimentare l'amore nei confronti del territorio. Un muretto pericolante sul quale i più piccoli hanno realizzato disegni colorati. Siamo felici perché questa iniziativa ha avuto particolarmente successo, è piena di bambini come avete potuto notare, bambini accompagnati dalle mamme, quindi meglio di così non si poteva sperare. Questo muro sta crollando, a me piacerebbe tanto, a noi piacerebbe tanto che qualcuno prendesse a cuore questa cosa perché i bambini possono farsi male, ma non solo i bambini, anche gli adulti. Grazie al fatto che come sempre i ragazzi di questa zona sono attivi rispetto al voler partecipare attivamente alla vita del quartiere, non soltanto subendolo il quartiere, ma cercando di comportare attraverso quelle che sono le esperienze quotidiane a confronto ogni giorno in quelli che sono quei pochi spazi di socialità. Mi piacciono queste iniziative, ne vorrei tante di queste iniziative che fanno bene ai cittadini di Paolo Sesso.